Ciao a tutti, stai in rapero, qui Axel in costa raga parla e oggi siamo qui con un nuovo episodio di Pokemon Discovery Ho visto il feedback della scorsa puntata e a quanto pare vi piace Buono, perché piace anche a me, quindi... andiamo avanti Mmm, April, mi sembra che sia una recensione Sembra come se qualcuno sia stato qui Bene, andiamo avanti Dietro di te Io non mi girerei Prendetelo Cosa facciamo con lui? Sai cosa ha detto il capo? Niente sopravvissuti Quindi, come lo faremo? Beh, potremmo darlo in pasto ai nostri Pokemon Oddio, no È un modo orribile per farlo Bene, qual è la tua idea? Penso che potremmo legarlo ad una roccia e buttarlo nell'oceano Sì, credo che funzionerà Spirito Cos'era quel rumore? Non lo so, però non resterò qui attorno per scoprire cos'è E che ne facciamo del mare in retto? Lascialo morire Lascia che sia quella cosa a prenderlo Andiamo, andiamo, andiamo Spiritum questo, no? È il verso di Spiritum Oppure sono io che... Sveglia Ah, la tizia di prima Dove sono? Chi sei tu? Che sta succedendo? Ok, all'improvviso giratina K All'improvviso giratina E se io voglio andare su? E se io non voglio andare su? E se io voglio... Ok, mi sa che non... Yeah Oh, no No Mi prego di che mi chiedo scherzo Bene Mi perderò giusto poco Giusto poco, eh Anche sti cosi ti portano via, no Ah, bello Abbiamo un quello al centro A quanto pare il creatore di questa croma mi conosce Sa che io prenderò sempre quello al centro Poi dopo prenderò quello a destra E poi dopo prenderò quello a sinistra State a vedere che quello a destra mi riporta davvero prima Non ci scommettete? Io ci scommetto... Qualcosa Oh Scrano Vabbè Persona scommessa Quindi Boh Andiamo al desk Andiamo su Non mi piace questo posto per niente Cioè, è bello come è fatto Però Io come al solito mi perdono un bicchier d'acqua Questo è più lontano, quindi è questo Ah, bello Andiamo in questo perché C'era una via lì Ma vabbè Lasciamo perdere Facciamo finta di non averla vista Ah, si può correre, è vero Allora, qua non c'è Andiamo qui Ah Mi sto perdendo ragazzi Ah, mi porta sempre lo stesso posto Va bene Ho fottuto tutto come al solito Ma andiamo avanti Ok Attenzione Le moves Le moves di X5 No No Fate finta di non aver visto niente Va Io Io non failo mai Mai E ve lo dice uno che non faila mai Quindi dovete ascoltarlo Ascoltate sempre quelli che vi dicono Io non failo mai Sempre Perché non mi mentono mai Perché loro non failano mai Quindi date che non failano mai Non mentono mai Ok Quindi alla fine Infine era questo La parte giusta Sì Aspetta Non andare Che sta succedendo Qualcuno ha usato il profumino Riconosco questo suono Oh, ciao Cosa sono qui Fermati Non andartene di nuovo Che posto è questo Chi sei tu Tu sei nuovo Della nostra isola Avrei bisogno di un compagno più forte Qui Scegli uno di queste Scegli uno di questi Tu hai un destino da compiere Xinco Aspetta Intendi dire che Se c'è Fuck Yeah Posso scegliere il mio L'amazing evolution Lithium Guarda Ho proprio messo al simpro Come per dire Ehi Il più forte sono io Scegli me Sono il più figo Sono il più tosto Sono il più Lithium Quindi sì Lithium Subito A questo punto Gli diamo anche E' femmina No, io lo volevo maschio La fortuna di Xinco La fortuna di Xinco Allora Gardenia Gardenia Ah Molto semplice Molto carino Buona fortuna Xinco Ne avrei bisogno Cos'è successo? Ah La testa Groudon Cos'era quello? Me lo so Vado a cercare No Prima Ok Cerchiamo Ah Livello 5 Water Assorb Bello Sì Come mi aspettavo Attacco e difese speciale Piuttosto alte Razor Leaf Bene Andiamo Gardenia Io e te Domineremo il mondo Oh C'è una pokeball Cinco Ho provato una pozione Bene Andiamo Posso correre Io continuo a dimenticarmi Che posso correre Vabbè Guardiamo come Come lo sprite in game C'è Nella lotta Bellsprout Che culo Se avessi scelto Flareon Non sarebbe andato meglio Ma vabbè Gardenia OP Guardatela C'è Guardatela C'è La Bull Il Kinez Il Gamage D'oggi in poi Tutti i Leaf Ho nel team Ragazzi Tutti i Leaf Ho nel team Competitivo Chi non ha Leaf Ho nel team Competitivo Ho un hub Di merda Che non so giocare Sì Lo ho detto E con questo Attirerò Tanti dislike Sul mio Che c'è quella roba Lo voglio prenderlo Si può Boh Oh Deve essere qui Da qualche parte Qui Questa è la via Sbagliata Alt Che pensi di fare Cos'è quel pokemon Bruce Non mi interessa Rex Disfruggiamo Questi due Tut 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 Uh Bello lo sprite Vai Cubone Che culo Ho una bella mossa Qui Proprio apposta Per te Cubone Razor Leaf Critta Oh Una cosa bruttissima Non poter Accelerare La difesa è stata Diminuita Ma fa lo stesso Verdeyne Tanto Shotter Anzi B shot Livello 6 Poi ti manda in campo Insomma così va Ti provi a dimmi Per me Mossa tipo Volante No Qualcosa di Dieci volte Pezzo Ah Sound attack No Sound attack No Gardenia Gardenia Ti prego Ti prego Gardenia E poi E poi Mi chiedete Perché non Adoro Lifion E poi Mi chiedete Perché non Adoro Lifion Cioè Guardatela Guardate la nostra Gardenia Impossibile Cosa Cosa Diavolo è successo È successo che Gardenia Shotta B Shotta Ma vabbè Andiamo Rex Meglio se Andiamo a Giro il boss Sì Ritorneremo per te Idiota Però quel genere Hanno fatto per Accadere qualcosa R.C. Letter Non ho idea di cosa sia Ma A questo punto Non posso passare A questo punto Andiamo qui No Forse Andiamo qui Allora a questo punto Andiamo Seguiamoli Escusso Ehi Chi è quello di Acquire di te Oh Cinco sei tu Oh Mattiello Sei vivo Sono felice Che tu sia Che Sei Wow Sei scomparso Per due giorni Ah Devi riprendere Un po' di cose Quindi andiamo Robbe Incontriamoci Nel Bridge Come si chiama Nel ponte Lo dirò Anche gli altri Va bene Va bene Mattiello È un Va bene Ci parla dopo Con quel tizio Voglio vedere Se tipo Decide qualcosa Ho l'abitudine Di premere L'acceleratore Per cercare Di andare più veloce Ma vabbè Oh si Fao Allora Il ponte Dov'è? Va bene Farò Farò fin Di aver visto Con la cartolina Il ponte Ah Qui c'è Il mare Quindi si Dovrebbe essere Da queste parti Ah Sono lì Good job Xinco Bene Questo è il villaggio Ex Ex Cultus E questo è il leader Marcus Ciao e benvenuto Nel nostro villaggio Siamo Abbiamo vissuto qui Per molti Decadi Come cavolo si pronuncia Il mio Il mio Nonno Il mio Bisnonno No Il mio Nonno Sì Il mio Nonno Il mio Nonno È arrivato qui Con Con i suoi pescatori Scherzo Cosa vuol dire Scherzo Ah Il food Il cibo Qui è scarso E è difficile Da provare Ho paura Che non abbiamo Molto Tempo Prima che Dobbiamo muoversi Ci sono C'è molte civiltà In questa In questa Landa Molti di essi Non importa Delle altre Comunque Molta Quanto sono Non mi vengono le parole Sono Dislessi Con casino Oggi Comunque Molti delle Dei civili Qui Condivino una cosa I frammenti Di talismano Sai C'è una leggenda Che di C'è una leggenda Che vive in costalanda Tanto tempo fa In costalanda Era popolata Da Una società Con molto successo Ah Quello Finchè il consiglio Non si è mostrato Il consiglio È un gruppo Di pokemon Leggendari Che Domina Sulla terra Cos Allora Perché non mi vengono le parole Da sprodurre Oggi Permettendo a nessuno Di entrare O uscire Vivo Bello Comunque Un vecchio uovo Ha creato Un talismano Così tanto Così tanto Forte Da Mandare via Del consiglio E A forzarli A Nascondersi La gente aveva paura Comunque Non volevano che si fosse anche solo una chance Che il consiglio ritornasse Quello ha deciso di andarsene Dalla landa Senza L'uomo anziano L'uomo anziano è morto Fuori dalla cava Che Fuori dalla cava Che il consiglio era Custodito Cioè Avevano custodito Il consiglio Dentro una cava E il vecchio uomo Si è morto davanti Bello Questa Questa cava Si trova Alla cima Del monte Burubai E' stato detto che il talismano si è rotto in tanti frammenti E' disperso per la landa Marcos ha menzionato che molti dei civili Che molti dei civili hanno almeno uno dei frammenti 5 penso che dovremmo prenderli tutti E' questo l'unico modo che noi abbiamo per tornare a casa e aiutare queste persone in questa landa Marcos ha già un frammento e Quindi dovrebbero rimanerne 8 qualcuno di più Meglio se voi dovevi dividiate per il vostro coso Ci sono molti posti Là fuori Ma sta attento Ci sono un po' di persone disperate qua fuori E le abbiamo incontrate Anche se non le abbiamo viste le abbiamo incontrate Sessi il condatto Marcos Cos Ah Arrenditi Marcos Il talismano muori Dove passare sul mio cadavere Stupido ignorante Gladi Tizio Somma Evoca il tuo Pokémon Prometto che farò la tua morte molto Leggera Marcos E quindi che dovrei fare? Sfidareli Sì Sfidiamoli Tatatata E aspetta ma io vorrei ricaricare il mio Pokémon Gli sprezzo sono bellissimi Scruuuu uuuupi che il whip aia dimmi che non hai mosse tipo spero di non farmi niente eh eh bello bello gardenia dimmi che lo uuuuh e vabbè 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 lasciamo perdere va adesso dovrei spawn ah qui quindi questo è tipo un esempio pokemon fa vedere si bene questo vuol dire che non siamo a livello abbastanza alto bello per cui non siamo a livello abbastanza alto tutti voi sapete cosa bisogna fare vero vero ragazzi che lo sapete dov'è l'erba alta anche quel posto è bloccato però aspetta a questo punto siccome sono no non posso andarsi vabbè comunque alleniamoci ecco io avevo avevo intenzione di prendere flareon però vedendo cosa ho detto dai prendiamo lui perché mi piace e proprio che succede mi mettono tutti i pokemon che sono super efficaci su gardenia la mia fortuna colpisce ancora bello molto bello molto bello ma non prendiamo manco non prendiamo nulla di esperienza bello dai che poi a questo punto che appunto siamo con la registrazione oh eh siamo 19 minuti eh potrei anche chiudere potrei anche chiudere fannoci c'è perché all'inizio ti mostri così gardenia come dannatamente OP e adesso inizia a fare altamente schifo perché? perché? perché mi odi così tanto? io io voglio solo renderti il pokemon più forte del mondo che problema c'è con questo? non posso non vuoi realizzare anche tu questo sogno non vuoi diventare too much strong for you get on my level noob mamma mia si metterà una vita si mi sa che lì io non vabbè vatto questo e poi dopo vi dico addio faccio l'aleno da solo l'aleno da solo e chi si è visto si è visto anche io che continuo a spammare mosse tipo erbo quando sarebbe meglio usare le mosse tipo normali in questi casi ecco sarebbe molto più conveniente ok gardenia 30 oh livello 8 beh beh forse alla fin fine non ci metterò così tanto però contando che quello è un livello super efficace su di noi dovrei allearlo circa a livello 11 o di stai scherzando? ma sei serio? c'è perché le incontrerete così? cosa ho mai fatto di male? spiegatemelo c'è seriamente? vabbè ve l'ho detto che ve l'avevo lasciato qui quindi vi lascio qui per questo episodio è tutto noi ci vediamo in un prossimo episodio bye bye ciao ciao ciao